E continuiamo a parlare di Confagricoltura che è in merito alla revisione delle macchine agricole, chiede chiarezza e dice ancora non ci siamo senza decreto attuativo, non si può partire. Non accenna a migliorare la situazione relativa alla revisione delle macchine agricole e operatrici con i proclami del mondo politico e amministrativo che si scontrano con la realtà della mancanza di un decreto attuativo che possa sbloccare definitivamente la questione. Nel frattempo si va avanti a colpi di rinvii, l'ultimo arrivato poche settimane fa, che spostano le date limite entro le quali ipoteticamente andrebbero effettuate le revisioni dei mezzi. Siamo alle solite, spiega il direttore di Confagricoltura Mantua Daniele Sfulcini. Dopo mesi di richiami, appelli, tutto viene ancora rimandato. Questo lascia parzialmente tranquilli gli operatori che ogni giorno lavorano con i mezzi in questione, ma sottolinea una volta di più come manchi una chiara volontà politica di risolvere in maniera definitiva questa faccenda. Non è possibile andare avanti così, chiediamo che venga fatta chiarezza una volta per tutte. Il decreto emesso poche settimane fa, infatti, si limita a spostare in avanti le scadenze della revisione. Aggiornare il parco macchine è fondamentale, conclude Sfulcini, ma continuiamo a nutrire perplessità sul numero di veicoli che andrebbero revisionati, più di due milioni in tutta Italia, sulle difficoltà economiche legate all'acquisto di nuove macchine, sulla mancanza di incentivi per la rottamazione e sulle difficoltà nel raggiungere le officine autorizzate.